G, sei diverso? Sei diverso? Io sono... diverso? Ma io, se mi dice un me, diverso io? Vuoi dire se sei diverso dagli altri? Cioè, no, non è che mi... io non mi sa... Cioè, vuoi da chi? Diverso da chi? Dall'esterno! Se tu ti vedi, se tu vedi, ti vedi da fuori, ti vedi, ti vedi per forza diverso, sei un diverso. Ma c'è da chi? Cioè, fammi un esempio di... diverso da tutto, da tutti, cioè, non va bene così, devi essere uguale. Mi sono incazzato questa cosa, scusa, cioè, io non l'ho fatta apposta, io l'ho fatta apposta, cioè, scusa però. Quindi chiede scusa che sono di meno, ho detto. Scusa, vabbè, cioè, io però non ho fatto... non capisco che... Zitto! Zitto! G! Sei G diverso! Vabbè, ok, vabbè, scusa, scusa.